Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che tornerà a essere molto variabile e movimentata soprattutto al centro-nord perché la pressione atmosferica è in diminuzione sul Mediterraneo occidentale. E così ritroveremo anche parecchie nuvole sul nostro paese, nuvolosità che risulterà più estesa e compatta nelle regioni centro-settentronali mentre al sud non mancheranno comunque anche delle belle schierite. E anche come precipitazioni i fenomeni più intensi insisteranno dapprima sul versante tirrenico, medio-alto tirreno in particolare, e poi si estenderanno a buona parte del centro-nord mentre le estreme regioni meridionali vedranno precipitazioni quasi del tutto assenti, quindi all'estremo sud situazione discreta. E in effetti nel complesso giornata che nelle estreme regioni meridionali sarà anche buona con ampie zone di sereno e temperature ancora miti. Ma al centro-nord, come vedete, tornano piogge diffuse non particolarmente insistenti. Spesso dureranno poco, però nel corso della giornata dovremo rimettere mano agli ombrelli. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com